bella lada siamo con la mia vanilla se volete entrare mi raccomando mandatemi la richiesta allora si addemmi la sari uno, due, tre, tre, four, five, six, seven, eight, nine, e rannan a te parla no questo me lo devo lasciare sta a posto si 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 a posto che in questa cassa si vede cura di nuovo ma voglia c'è pure una spada due spade ci siamo fatte ma che blocco è c'è una pala mettiamo questo qua piccone aspetta dobbiamo creare un piccone ok tre nasce una zappa questo è bello che lo sta portando ma che tatia la mamma di rato compagna vedimi giù non c'è io vado vai vai non ti sfida le tue cose bene direi una cosa sicuro non ho mai usato io il micro quando c'è la carne le cose mangelate la posso mettere con tutto la botta della carne si mette un po' oppure si deve uscire come te lo vorrei non si muoce angela no dalla carne lo devi togliere tesoro mio dalla carta angela dalla carta lo devi togliere devi fare solamente e defrost e devi farlo cuocere normale senza carta devo farlo per forza non guardi qua niente insomma manco le coordinate in quanto siamo un bel po' però siamo scesi andiamo a fargli delle torce bene vieni si sto scendendo si sto scendendo si sto scendendo amic nici si sto scendendo a ce mi è già quasi allumina ok alluminato datemi seguite su youtube iscrivetevi al canale di mandare un pelino lasciateli commentate condividete con 10 vostri amici e mi raccomando fate bravi vi auguro una buona giornata uh del ferro non vi saluto però vi dico una buona giornata perché mangio alle 11 buon pranzo io mangio a mezzo eh io mangio l'una mezzogiorno devo andare alla postina eccomi qua ahhh così mi hanno fatto pistare questa canzone dobbiamo andare a farci un'altra piccola e poi dobbiamo mettere no giusto non abbiamo più carbone eh carbone ok ok risaliamo ok la digia si sta facendo buio no 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 qui sono aggressivo oh cavolo i zombie no au cosa no 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 è la casa frecciata mi sa che devo togliere questo cartello e devo mettere uno e due ah finalmente abbiamo questo libro claro dormiamo e domani è una nuova giornata salto pure un po' nel letto ah non è il letto questo qua dai hai la testa mi dice che io ne ho 8 di ferro e ne ho 1 di carbone non commento tanto non lo troverò il carbone no! che ho fatto? non ho trovato il carbone trovato va donna surprise 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 andiamo a casa aspetta andiamo a posare un po' di cose ugual te sento un creeper però poi è spacco lasciamo i semini questo 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 poi questo via questo via questo 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 non serve più cosa? con un lingotto ne abbiamo fatto 8 di ferro? cioè con un di carbone abbiamo fatto eeeh i piedini i piedini dobbiamo fare se non mi sbaglio aspetta vediamo aspettate si i gambali poi dovevamo fare eeeh piccola di ferro eeeh ok giusto si a posto a posto mangiarlo mangiarlo poi eeeh dobbiamo andare a prendere l'altro carbone che c'è no fuori ma no non che perché non ho maria di giorno notte non mi dire no vabbè la caverna la continueremo qualche altro giorno oppure quando io non sono in questo che sto facendo un video anzi vi volevo annunciare che da ora in poi solo il sabato e la domenica farò like cioè solo la domenica pomeriggio verso le 4 5 ma siamo pure a verdi una mucca piccolina non l'ha amato perché c'è d'oro mucca piccolina l'altro giorno sono amati in questo laghetto un pezzo di merda questo questo un pezzo di merda questo essere un pezzo di merda di andare via pezzo di merda voglio scambiare qualcosa che sai eh sì solo smeraldi ma non c'era a ciava ghiare il video si conclude qui alla prossima ciao ciao